Siamo qui al Salone Risparmio con Giovanni D'Aprano, amministratore delegato di Monifarma. Allora, cosa presenterete al Salone quest'anno e quali novità per il 2015? Allora, per il 2015 noi abbiamo appena lanciato quello che è un piano di accumulo che permette di abbassare e di investire sulla nostra piattaforma anche a partire da 100 euro al mese. Abbiamo deciso di essere non presenti al Salone, nel senso che siamo nel fuori Salone del Risparmio, proprio perché abbiamo gli stessi valori ma li vogliamo comunicare in modo diverso. E invece, ci parli meglio di questo pack, come funziona e cosa si differenzia dagli altri prodotti sul mercato? Allora, la differenza principale è che si tratta sempre di consulenza, quindi siamo riusciti a costruire tramite la nostra tecnologia un servizio di consulenza in accumulo di fatto, abbassando drasticamente quelle che sono le soglie minime di investimento. L'altra grande differenza è che è su ETF e il cliente paga l'1,25% e tutti i costi, anche quelli di transazione, sono inclusi, essendo quindi probabilmente la soluzione più economica che si trova sul mercato. Bene, grazie da Pra per questa breve pillola al Salone del Risparmio. Grazie a voi.